In questo momento in cui le cose da un punto di vista finanziario sono un po' strane o comunque è difficile riuscire a capire come andrà la nostra vita da un punto di vista economico, nell'ambito della formazione degli eventi c'è un evento molto particolare che si chiama Metti la crisi KO, si terrà a Roma il 9 di maggio, il titolo è sicuramente una bella promessa e anche le due persone che tengono questo seminario sono assolutamente interessanti nella loro sinergia innovativa. Il primo si chiama Eugenio Benetazzo ed è un esperto di finanza da un punto di vista alternativo, cioè lui è in grado di rianalizzare che cosa capita nei mercati finanziari, nell'economia attraverso una chiave di rilettura che ci ha la possibilità di capire che il denaro è energia. Livio Sgarbi è un grande del coaching, è una persona che si occupa di motivazione e insieme queste due persone, nell'ambito di questo seminario, danno la possibilità di rivedere le nostre posizioni nell'ambito di queste paure che si sono generate nei confronti di questa crisi e che in fondo possono addirittura essere trasformate in opportunità. Nel momento in cui vengono riletti i meccanismi e noi ritroviamo nuovamente forza e potenza in noi stessi, probabilmente quello che sembra essere un periodo molto brutto potrebbe trasformarsi in qualcosa di davvero molto interessante. A Roma il 9 di maggio.